Sono molto contento di partecipare a questo All-Star Game, in cui è una partita in cui soprattutto ci si diverte e si fa divertire il pubblico. È un privilegio, un onore per me essere qua e devo ringraziare i miei compagni di squadra, Cos Buscaglia e anche tutta la società che crede in me e poi anche Costa Masson che mi ha voluto portare nella sua selezione. Ci sarà da divertirsi, tante schiacciate, stoppate, assist, uno spot per i basket e noi cercheremo di farvi divertire.